Ciao a tutti! Da Matteo e da Anna e da Joe che è la nostra palla. Io e Anna a qualche giorno che siamo chiusi in casa vi ho avuto qualche linea di febbre, come vedete la barba cresce e l'abbigliamento non è lo stesso che si usa in ufficio, ma per fortuna c'è il telefono, per fortuna ci sono i computer, siamo collegati con tutti i nostri amici, siamo collegati con le maestre. E oggi è il giorno del papà. E quindi facciamo gli auguri a tutti i papà. Allora, le tecnologie ci aiutano in questo momento difficile per stare vicino a tutte le persone con cui lavoriamo, con cui studiamo e a tutti i nostri amici. Quindi faccio un grande in bocca al lupo a tutti, facciamo di nuovo un grande augurio a tutti i papà e speriamo di vederci presto. Ciao! Ciao!